Dopo la rottura dolorosa e francamente ingiustificata dell'ultima riunione del tavolo, oggi l'avvertenza Gilbarco ha fatto un piccolo passo avanti con un'apertura reciproca fra aziende e organizzazioni sindacali che ci consente di riavviare un confronto, un confronto che per noi, per la regione, per le istituzioni che seguono questa vicenda dall'inizio non può che avere due obiettivi, esuberi zero e certezza assoluta circa il futuro industriale del sito di Gilbarco di Firenze. Grazie